Tra le note positive di questa giornata, l'esordio di Pavone con la prima squadra, con la maglia del Pescara di Zauri, per te è una grande soddisfazione? Sì, è una grande soddisfazione soprattutto perché sono da qui da dieci anni e diciamo ho coronato un sogno che aspettavo sin da bambino e mi dispiace per il risultato finale, però sono orgoglioso dell'esordio. Ti sei fatto vedere anche tanto nella ripresa, hai avuto anche qualche spunto importante? Sì, ho provato a dare il massimo, purtroppo il secondo tempo abbiamo giocato poco perché loro stavano in vantaggio e quindi era giusto che perderemo tempo. Cosa significa per te esordire con la maglia della prima squadra? Non ve lo so spiegare perché io sono nato a Pescara, ho sempre visto le partite fuori, cioè dalla tribuna, entrare in quel rettangolo verde è un'emozione indescrivibile. Quando ti ha detto Zauri di prepararti per entrare cosa hai pensato? All'inizio non ci credevo, poi ho visto che veramente dovevo entrare, mi sono scaldato e come ho detto ho provato a dare il massimo. Parliamo anche un po' di questa partita, nel primo tempo avete tenuto testa la Juve Stabia, poi nella ripresa avete iniziato bene, poi dopo il gol del vantaggio della formazione di casa avete avuto qualche problema, avete accusato forse il vantaggio della Juve Stabia anche a livello psicologico e così? Sì, forse l'impatto del secondo gol è stato devastante sotto il punto di vista psicologico, il primo tempo è partita secondo il mio punto di vista dominata, purtroppo è andata così, ci rifaremo però sicuramente. Importante rifarsi già sabato con il Pisa? Sì, secondo me vinceremo. Grazie